Siamo qui al Comitato Provinciale e questa presentazione corale e l'avvio anche per la città di Caserta, per il capoluogo, di questa campagna elettorale che sostanzialmente è la chiamata alle armi per Forza Italia ed è assolutamente il segnale necessario perché si riconquisti lo spazio della politica e che anche gli indecisi comprendano e siano da noi persuasi che è indispensabile questo voto politico a Forza Italia per combattere la disgregazione delle sinistre e l'approssimazione dei 5 Stelle. Quindi questa è un'iniziativa fondamentale che rilancia la squadra e per cui tutti noi abbiamo dato la massima disponibilità perché da Caserta e con Caserta bisogna continuare ad operare in maniera capillare su quelli che sono i temi fondamentali della campagna elettorale e soprattutto avvicinarsi alla vita concreta delle persone perché questo quotidiano difficoltoso ha la necessità urgente di essere preso in considerazione in maniera seria dalla politica così come deve essere con competenza, responsabilità, onestà e linearità.